Torna, dopo otto anni di inattività, il premio Sport Città di Viareggio. L'ultima edizione a cui si riferiscono le nostre immagini fu infatti realizzata nel 2013 a Villa Borbone. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato lunedì il nuovo regolamento del premio, totalmente rinnovato, così come rinnovato è stato il logo della manifestazione. Un premio che vedrà protagonisti i membri della consulta dello sport, l'organo costituito per riunire tutte le realtà sportive cittadine. Sarà al suo interno i fatti che verranno indicati i candidati, un minimo di 6 fino a un massimo di 15, che si contenderanno i premi nelle 6 categorie in gara. Fa particolarmente piacere che il nuovo premio Sport Città di Viareggio viva interamente in ogni passaggio della sua gestione attraverso le iniziative degli sportivi. Tant'è che saranno proprio i componenti della consulta a dover suggerire i candidati al premio, da un minimo di 6 ad un massimo di 15, almeno uno per ciascuna categoria. Le categorie saranno atleta, giovane emergente, allenatore, dirigente, squadra, società ed associazione sportiva dell'anno. Una volta individuati i candidati, ci sarà la serata di gala, durante la quale i candidati stessi saranno votati con scrutinio segreto ad eleggere il vincitore finale del premio. L'aspetto più affascinante è proprio il fatto che sia tutto gestito dagli sportivi, sia la scelta delle candidature che il vincitore finale. L'aspetto più affascinante è stata la scelta.